Salve a tutti ragazzi, io sono Michele e oggi vi farò vedere come scaricare film, quindi video e audio in abbastanza qualità però sempre in mp3 da YouTube. Innanzitutto andiamo su internet e cerchiamo il video che vogliamo scaricare. Se vi è dimostrata la pubblicità, aspettiamo che finisca e copiamo l'URL, ovvero l'indirizzo web. Dopo aver scaricato il programma 4K Video Downloader dal sito internet ufficiale, lo apriamo e clicchiamo su Incolla Link. Poi selezioniamo il formato e la risoluzione e clicchiamo su Download. Attendiamo che finisca lo scaricamento e poi potremo visualizzarlo e ascoltarlo sebbene non siamo connessi ad una rete wifi. Mentre se volete scaricare delle canzoni, quindi il file audio, vi consiglio il sito www.youtube-mp3.org che è molto pratico ed intuitivo ed è meglio che scaricare un sacco di programmi. Quindi basta ricarsi sul sito del video musicale da scaricare e copiare l'URL ed incollarlo nell'apposita barra per poi cliccare su Converti e poi su Scarica. E il gioco è fatto! Bene ragazzi, se anche questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, commentate qua straccio se volete qualcosa non vi è stato chiaro e volete avere maggiore informazioni e conoscete il video per aiutarmi a crescere, ma la cosa più importante di tutte, iscrivetevi al canale. Ciao!